ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua come spesso accade con un altro episodio degli orologi vostri orologi vostri sarebbe anche un bel titolo per la rubrica in realtà è i vostri video da quello che ci mandate con all'interno tutti quei piccoli oggetti di metallo con il cinturino in pelle ecco il cinturino pelle o a volte il bracciale in metallo no e che a noi tanto ci piace guardare perché scopriamo orologini nuovi visti e rivisti a volte ma anche delle storie che ci sono dietro perché fin dei conti a questo serve a mostrare il vostro percorso e cosa volete da questo simpatico hobby come dice il buon mike buongiorno ora detto questo come partecipare lo sapete ormai basta caricare il video su wii transfer punto com e poi mandarmi il link per scaricarlo poi lo scarico lo metto in una cartellona gigante insieme a tutti gli altri calderone divisi per mese tra in modo da dare una certa priorità temporale però a volte continuano a darmi il buon natale o il buon anno quindi siamo ancora un pochino no indietro vabbè l'orologio del giorno è ancora una volta questo simpatico omega speed master con il cinturino in nabuc nabuc sarebbe coccodrillo del nilo nabucato cioè scamosciato sulla parte esterna fior fiore di pelle l'ha fatto mio amico john coel straps e l'ha rivitalizzato anche in questo caso non so come mai anzi lo sto anche utilizzando adesso in palestra per i tempi di recupero no con il cronografo track un minuto si calcola finalmente gli ho trovato anche una collocazione utile lo uso e strauso perché lì trin 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 e lo mettiamo anche la prova no vedere se veramente resistente all'utilizzo di solito si dice per calcolare i tempi di cottura della pasta per cosa ti serve un cronografo gli ho trovato una collocazione utile e ne sono abbastanza contento detto questo basta con i discorsi inutili passiamo al primo video barra spaziatrice pronta a subire i colpi e indice pronto a darglieli via ciao davide io sono io sono giulia e oggi ci siamo per fare la presentazione di una parte della collezione di mio suocero che ci ha incaricato di mostrarti i suoi orologi forse più particolari i primi che ti vogliamo presentare sono questi cinque quarti che hanno ognuno la propria particolarità come primo orologio ti faccio vedere questo pro master aqualand che ha il fondello che viene serrato da queste sei viti il suo profondimetro e si capisce che una referenza vecchia dal fatto che lo schermo lcd presente qua sopra è direttamente attaccato alla carrurre invece quelli che vengono prodotti attualmente hanno lo schermo che rio scritto r i o t rio rio sarebbe la parte esterna del quadrante ma si scrive r h a u t hai capito non riot come scritto te che significa sommossa in inglese va bene vabbè già che siamo qua che abbiamo fermato per questa piccola correzione devo dire che glielo già visti tutti e cinque e sono dei quarti che hanno senso di esistere no non è che uno dei quarti è il quarti no questi quali ho già visti che sono interessanti e in una collezione sono interessanti è leggermente staccato dopodiché abbiamo questo omega consolation che è spettacolare secondo me per il suo quadrante che questo quadrante cielo stellato viene ricavato dagli scarti di lavorazione del diamante si riescono a ottenere tutti quanti queste tutte quante queste luci che danno un effetto spettacolare e mi piace molto dov'è di che abbiamo questo omega albatross che è stato fatto per le olimpiadi di montreal del 76 e alla sua forma abbastanza particolare belle però lo trovo sicuramente carini e degno di essere mostrato a seguire abbiamo questo bright link navi timer con lo schermo lcd e mio suocero mi assicura che è uno di quelli orologi che non si vede molto spesso in giro e per questo risulta essere molto molto simpatico ci sarà un motivo però a seguire abbiamo questo zenith è l'ultimo quarto che ti facciamo vedere oggi e alla particolarità di avere questo schermo questo schermo in basso a destra e se viene schiacciato questo pulsante il pulsante in basso vengono mostrati i secondi mentre con il pulsante questo qua in alto viene mostrata la data odierna la data attuale bello a questo punto ora perché hanno questi qua hanno servito di esistere soprattutto perché diciamo bello bello perché sono orologi quarzi nati nel momento del quarzo cioè sono dei vintage hai capito rappresentano il massimo di la tecnologia applicata agli orologi nel quel dato momento quando sono usciti come questo zenith come gli altri che ha mostrato ci piacciono bravo sono promossi niente niente cioffecalert possiamo cominciare con i meccanici e il primo che ti faccio vedere è questo orologio a taschino che deve essere degli anni venti che ha fatto in oro massiccio e presenta questa catenella alla cui estremità è presente un una sede per un marengo praticamente questo marengo attraverso questa farfallina cioè andando a risvitare questa farfallina può essere estratto dal è stato dalla sua sede la farfallina che è filettata ma praticamente la sua utilità qual è il marengo cioè l'utilità è quella di me di avere una monetina portata di mano per pagare qualcosa si prendo il giornale tra monetina sfilo la monetina marengo e pago il giornale quella a seguire abbiamo questo omega e alla sua forma particolare particolare automatico e lo trovo molto carino e non so c'era mai detto che deve che sta decidendo se effettivamente farla revisionare oppure no perché avrebbe bisogno di una revisionata secondo me dovrebbe farlo perché lo trovo molto carino mi piacerebbe averlo in collezione a seguire ti mostro questo orologio qua che è un Alain Silbertain che è stato disegnato da un architetto francese defunto che ha questo quadrante abbastanza infantile abbastanza giocoso colorato e questi pulsanti qua sul lato che hanno una forma quadrata triangolare circolare a me personalmente non fa infazzire questo però lo trovo sicuramente particolare degno di essere mostrato ma sì però insomma a seguire ti faccio vedere questo longjin fatto in oro massiccio che è stato regalato al mio suocero all'età di 18 anni per gli 18 anni e per diverso tempo è stato il suo unico orologio tra virgolette lo utilizzava come everyday watch e ha il bracciale che è un po' stanco però mi piace molto è un po' piccolino però sicuramente un bello orologio successivamente ti faccio vedere questa che è una chicca che è una Gegele Q3 reverso duo face duo face infatti si può girare il quadrante e la cassa e ottenere quindi due quadranti differenti a me piace molto mi fa infazzire il suo bracciale a chicchi di riso e questo gliele invidio molto ti devo dire la verità sì più che il suo scopo è quello di mostrare due quadranti differenti che è detta così sembra pittoresco no qual è il motivo è per così ci abbiamo due quadranti uno bianco uno nero e in realtà è la possibilità di vedere due fusi orari no successivamente questo Vacheron Constantin degli anni 80 toccalo solo tempo ore e minuti a carica manuale molto sottile molto piccolo secondo me un dress watch perfetto l'unica cosa che bisognerebbe cambiare questo cinturino perché a me non piace per niente non è quello originale e comunque c'è il mio socio che sta cercando o un bracciale maglia milanese d'oro no o un cinturino nero sì a me piacerebbe sinceramente con entrambe le configurazioni vedremo cosa deciderà ok dopodiché abbiamo questo air king che è diverso dalle referenze diciamo quelle attuali perché non presenta le spalline di protezione della corona e inoltre il 5 attualmente l'ultima referenza presenta uno zero prima del 5 invece questa referenza qua presenta solamente il 5 senza lo zero questo è un orologio che a me piace veramente tanto anche per la sua semplicità a me no a seguire ti faccio vedere questo bellissimo diametri master 2 top con referenza a 5 numeri 5 cifre lo trovo molto molto bello non volevo mai dire molto bello però mi è uscito mi dispiace cercherò di non dirlo più molto bello bravo così ti voglio a seguire questo submariner top con referenza 5513 quindi ancora a 4 numeri con il suo bellissimo trizio a pallettoni questo la referenza a pallettoni e si può vedere che diciamo tutte quante ad esempio le sfere l'indice e quant'altro presentano il trizio che è virato e il viraggio del trizio secondo me rende ancora più bello affascinante un orologio a seguire abbiamo questo dayjust con il bracciale giubilè la 41 con la lunetta zigrinata in oro bianco ancora con le pellicole varie ed eventuali lo trovo decisamente carino decisamente carino dai ti sei salvato poi andiamo con le varie punte di diamante a cominciare da questo daytona con lunetta in acciaio quadrante bianco è uno dei miei preferiti so che a te non fa impazzire il daytona ce lo ritieni un bello orologio ma sicuramente non ti piacerebbe averlo in collezione io sono innamorato del daytona ed è uno dei pochi cronografi che mi piace veramente tanto uno è questo e l'altro se proprio dovessi scegliere un daytona da avere io sceglierei in acciaio e oro con quadrante nero quello mi piace assai questo qua bianco è veramente poco 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 è sua maestà il royal oak ma che robetta anche questo so che il design gentiano con il bracciale integrato sta un po' stufato però io starei ore a guardarlo niente questa qua era una piccola carrellata una parte della collezione di mio suocero e quello che vorrei fare adesso è fare una piccolissima panoramica generale di tutta quanta la collezione di mio suocero quindi resta sintonizzato che dopo che ci sarà un cambio di inquadratura come promesso ecco la carrellata e diciamo che al suocero di orologio non mancano mamma mia un'unica cosa che se li mette tutti lui mamma mia e ovviamente sono anche quelli che abbiamo visto precedente ma che sono altrettanto belli come gli Accutron eeeh quanti Accutron c'ha? mamma mia e ovviamente sono anche quelli che abbiamo visto precedente come gli Accutron in questi casi direi che si possa dire un semplice gonfia ciao Davide un saluto al prossimo video ciao carissimi ciao 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 e allora cosa vogliamo dire di questa ora io capisco perché hai scelto lei come fidanzata eeeh il suocero con tutti quegli orologi lì e prima o poi no pace all'anima sua ma l'eredità arriverà non è mica non sarà mica un matrimonio di interesse e per amore che ti sposi con questa ragazza bravo 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 soprattutto bravo al suocero perché cioè vabbè uno dice tutti questi Rolex qua messi lì uno lo fa per ostentare per avere il pregio di avere tutti questi poi in realtà avete visto quanti Accutron gli sono passati lì cioè vuol dire che ha veramente un appassionato di orologi che riesce a spendere i suoi dendini un po' a destra e un po' a sinistra ma in un campo vasto ho visto anche un Cronomat un Bratling Cronomat che non ce l'aveva fatto vedere poi c'era tutti quegli orologi al quarzo che hai fatto vedere all'inizio quale senso avrebbe uno che vuole solamente gli orologi costosi per farsi notare non avrebbe senso veramente un appassionato bravo bravo lui e bravi gli altri due ragazzi giovani che vedrai che io direi che però la collezione di orologi dovete farvela da voi non dovete puntare a quella del suocero o del babbo la lasciate perdere incominciate a farvi la collezione con dei Citizen Promaster con degli orologi da poco e godetevi la passione poi se un giorno arriverà anzi spero che li venda tutti prima della morte prima della dipartita in modo che così rimanete a becco asciutto prossimo video ciao Davide sono Flavio da Torino faccio i compagamenti grazie e ti mostro subito la mia raccolta questo è il mio primo orologio acquistato nell'89 all'età di 20 anni è un DPV al quarzo DPV di Provenza Militare dovrebbe essere sì ho capito ho capito cosa sono i DPV nel 93 ho acquistato questo mio primo meccanico Olek and Wells Aviation Olek and Wells Aviation movimento va giù bellissimo allora te lo stai lo stai mostrando così in passante senza probabilmente non so nemmeno se sei a conoscenza di cosa hai per le mani Aviation allora era te dice Olek and Wells sì perché Olek and Wells ha iniziato a costruire gli orologi poi a un certo punto negli anni mi sembra 70 Brightling è andata in crisi e Olek and Wells il proprietario di Olek and Wells ha acquistato tutta una serie di brevetti e di casse di rimanenze di Brightling che era veramente in crisi comprese casse del Navi Timer e parti di altri orologi e quindi hanno iniziato a fare il Navi Timer sotto il brand Aviation che non c'entra niente né con Olek and Wells né con Brightling però con le casse di Brightling qui da qualche parte ci dovrebbe essere anche un marchio di Brightling o una sorta di referenza che riporta a quello o addirittura mi sembra che la referenza ad esempio del Navi Timer di Brightling era una una stringa alfanumerica e in questi qua è alla rovescia la stringa alfanumerica cioè è abbastanza interessante a livello storico e collezionistico questo orologio quando è venuto a mancare mio padre ho preso uno dei suoi orologi cos'è non si vede ho avuto quello che lui usava tutti i giorni ho scoperto che è del 47 47 la mia sorpresa sotto questa cassa qua c'è una parte in vetro che protegge il meccanismo ganso bello cassa da 34 bellissimo complimenti toppino ti do tieni successivamente ho acquistato questo Memphis Belle movimento Memphis Belle orologio di oggi di contemporane importante 44 mm beh sì Memphis Belle fa questi orologi così sfrontati a seguire questo orologio micro brand canadese Vancouver movimento miota serie 9000 9000 cassa da 43 tutto in bronzo tutto in bronzo non sembrava nemmeno boh non è che facciamo pazzire poi questa è una storia io nel corso del tempo avevo voglia di un orologio con il quadrante giallo con la teola ho cercato parecchi ma non ho mai acquistato uno fino a quando per puro caso ho visto questo qua e mi è ritornato in mente che appunto negli anni 90 quando è uscito era un orologio che desideravo ma non l'avevo mai acquistato l'ho trovato e l'ho fatto mio l'hai fatto tuo bravo l'hai posseduto penultimo orologio un Steinart tipo A un'ommage agli orologi militari della sicurezza mondiale cassa importante da 44 mm movimento et anche questo e per ultimo l'immancabile Hamilton caccafield 38 mm manuale no? yes grazie se pubblicherai questo video un saluto un saluto a tutti gli utenti del canale gli utenti del canale ciao 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 un video un po' triste un po' dimesso dai toni quasi disfattisti ma lo pubblichiamo perché ci sono dei pezzi interessanti poi dei dettori Steinart homage ai Flieger ecco magari in questo senso è il momento nel quale il termine homage ha più senso nel senso che è un design sdoganato nel senso che rappresenta gli orologi che utilizzavano durante la seconda guerra mondiale i tedeschi sui bombardieri no? e quindi ogni casa quasi ogni casa riproduce questo tipo di quadrante A come nel tuo caso o B quello con i numeri doppi e non è che si possono considerare delle copie rimarchiate o un design proprietario di qualcuno è veramente un design oserei dire di pubblico dominio perché già al tempo negli anni 40 le case che costruivano questi orologi erano 5 tutti uguali erano addirittura senza marchio proprio per dare in pasto ai tedeschi gli orologi da utilizzare come strumento no? e quindi Steinart che di solito fa delle copie rimarchiate di Rolex bla 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 Submariner in questo caso fa un orologio omage a quelli della seconda guerra mondiale come lo fanno in tanti ma è un design stoganato per il resto tutti gli orologi bello quella aviation lì ricordati di dare un'occhiata se c'è scritto Breithing da qualche parte o se c'è qualche referenza insomma approfondisce anche su internet quel discorso lì quello al quarto lì casietto al quarto con il quadrante Jean Bagne che è dimenticabile ora ti è presa la fissa c'è quella tara mentale che volevi l'orologio e quindi va bene va bene così per il resto complimenti hai fatto anche veloce si poteva fare un pochino più con più brio però va bene così va bene così sei promosso prossimo video ciao Davide ciao a tutti gli amici del canale mi chiamo Carlo e per partecipare alla rubrica tovaglie strane ho deciso di creare una nuova tendenza con questo asciugamano l'asciugamano e guanti sono appassionato da poco più di un anno a questo mondo grazie soprattutto al tuo canale ebbè di cui ho visto praticamente tutti i video meno male adesso basta leccare e cominciamo a mostrarti gli orologi della mia piccola raccolta cominciamo da questo quarzone a batteria super imbroglione perché questo oltre a ricevere il segnale orario dall'orologio atomico ha anche la possibilità di collegarsi al telefono per ricevere il segnale orario dal gps del telefono questo serve se uno si reca in quei paesi nel quale non si riceve il segnale orario dell'orologio atomico e come si fa? a batteria imbroglionissima passiamo oltre passiamo al mio primo acquisto di orologio spinnaker meccanico questo spinnaker un orologio semplice però piacevole da vedersi grazie a questo orologio ho imparato che non amo la lente magnificatrice sul quadrante mi sembra una goccia d'acqua caduta per sbaglio mi crea confusione e non mi piace però l'orologio lo tengo lo stesso passiamo al secondo acquisto questo Vostok anfibia semplicissimo insomma non c'è da dire nulla su questo orologio tranne che è simpatico e fa il suo come dicono tutti passiamo oltre un altro orologio che ho comprato è stato questo Citizen ProMaster non avevo un ProMaster ho deciso di prendere l'ultimo modello uscito lo voglio anch'io col quadrante color ruggine diciamo ruggine bravo allora è un bello orologio mi piace per il mio polso è un po' grande ma un diver va benissimo anche grande l'unica cosa che non amo di questo orologio è il reo che come si vede è verticale proprio completamente verticale il quadrante arriva lì angolo di 90 gradi e poi se ne va su dritto fino alla ghiera e che male c'è questa cosa non è che mi faccia impazzire quasi quasi lo cambio con il modello vecchio io invece proprio questo qua il modello che ho intenzione di prendere a breve questo qua con il quadrante color ruggine poi il discorso del rio verticale ma che me frega poi il discorso che è grande è 41 mm probabilmente è il lag to lag che è ingombrante ma un diver deve essere così anzi lo prenderò proprio col gommone intanto poi ci metto un bel nato mi sa oppure lo tengo col gommone mi piace questo qua lo prenderò altro orologino vintegino ho cominciato a girare un po' per mercatini e questo bellissimo doxa mi è servito a ricordarmi di prendere portarmi con gli occhiali per vedere da vicino perché è molto carino però guardando bene il quadrante ha diversi difetti che per carità ci stanno su un orologio vintage però magari avrei tirato un pochino sul prezzo detto questo comunque l'orologio mi piace davvero tanto ora i difetti su un orologio vintage ci devono essere cioè non è che uno tira il prezzo perché ci sono i difetti per forza è invecchiato ma non capisco se i difetti fossero qualcosa che non va a livello di coerenza di pezzi va bene ma io non tirerei meno sul prezzo non lo prenderei ma se è perché è invecchiato usurato è per forza un orologio vintage lo è una cosa che non mi piace tanto di questo orologio è che la lancetta delle ore e quella dei minuti sembrano quasi uguali cioè sono anche la lunghezza non è che sia così tanto differente a colpo d'occhio si può fare anche un po' di fatica una maggiore differenziazione in modo da fare invece lì devi capire va bene comunque poi io doxa vintage non li conosco potrebbe essere tutto qualsiasi tutto potrebbe essere anche rincassato con un quadrante ma lo so passiamo a un altro vintagino questa volta un acquisto un po' più consapevole questo bellissimo Zodiac negli anni 70 mi piace davvero tanto mi piace davvero tanto è molto particolare gli indici hanno una forma veramente particolare purtroppo adesso ci sono molti riflessi si fa fatica probabilmente si vede hanno due angolazioni diverse questo gli permette di luccicare con qualsiasi tipo di di luce a qualsiasi tipo di angolazione di luce e questo rende il quadrante veramente molto leggibile risalente agli anni 70 calibro 76 che dire mi piace mi sono un po' appassionato a questo marchio meno male sono contento passiamo oltre con la mia visita alla gioielleria Pasquale Domenici mi trovavo di passaggio e sono entrato per questo orologio in particolare il Marf non perché sia appassionato al film Interstellar niente di che semplicemente l'ho visto sul canale e mi ha colpito davvero tanto la pulizia delle linee mi piaceva proprio la semplicità e la pulizia del quadrante più che la semplicità fatto sta sono entrato a comprare questo orologio come sono entrato il buon Giacomo mi ha accolto e l'ho comprato ma nello stesso giorno entrando nella gioielleria in vetrina ho visto questo Zodiac Super Sea Wolf ridizione di quello vecchio degli anni 50 e non ho resistito non ce l'ho fatta ma ce l'ho fatta è uno degli orologi che amo di più lo indosso spessissimo l'ho comprato col suo bracciale ma al momento l'orologino se ne va in giro con questo Tropic in gomma marrone se ne va in giro con questo Tropic in gomma perché perché per distinguerlo un po' per cambiare perché poco dopo quell'orologio ho comprato questo super squale questo super squale con bracciale a chicchi di riso bellino bellino quadrante nero ci piace questo la ghiera ho scelto quello con la con la ghiera in acciaio perché mi piace questa questa cosa della ghiera in acciaio davvero un bello orologino so che magari è al limite proprio per essere un diver anche se sia uno skin diver ma com'è il limite col mio polso da 16 e mezzo sta bene quindi lo indosso con estremo piacere è un po' un watch davvero molto 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 carino ci piace ci piace lo squale squale passiamo all'ultimo orologino l'ultimo acchiappino questo citizen comprato su ebay da un venditore di milano estremamente serio una persona squesita meravigliosa col quale insomma si è avuto anche una uno scambio di messaggi in amicizia si è parlato di orologi e questo mi ha fatto pensare a quanto è bella questa passione perché ti permette anche di di creare connessioni con persone che non conosci connessioni che si basano sugli interessi comuni è una cosa davvero davvero bella è un mondo davvero bello questo citizen con miota serattomila all'interno molto semplice c7 si chiama però carino il fondello a vista potevano anche risparmiarselo ma il quadrante è veramente ipnotico ok da bello 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 bellino simpatico dai bene bene davide io ti ringrazio per i video che fai per l'intrattenimento che offri perché oltre ai contenuti che sono sempre molto interessanti è proprio la maniera in cui fai video che tiene compagnia fa bene fa piacere proprio vedere i tuoi video saluto tutti e ci vediamo al prossimo video grazie ancora ciao ciao un caro saluto niente cosa ti posso dire tutti i belli orologi poi ti entri in un negozio passi di lì prendi il Morph e poi dopo già che sei lì prendi anche lo Zodiac ma ce n'hai da spendere perché insomma anche se non sono orologi super costosi anche solamente averci la disposizione i soldi è un minimo di remore ti viene da dire ma ora devo prendere due orologi è moralmente corretto moralmente accettabile uno si fa degli scrupoli poi dopo se entri dentro con due scimmiette una di qua e una di là è così allora è logico che poi spendi spendi prendi finché non vai in rosso spendi spendi bravo lo Zodiac Squale Super Squale mi è piaciuto tantissimo lo Zodiac uguale l'ultimo C7 della Citizen con quei quadrianti ci piace un po' meno una finestra adatta a ore 12 ma come dico sempre io ogni orologio c'ha un punticino debole o qualcosa che non ci va a genio al 100% no poi se tutto il resto ci fa scattare la Shintils e allora si compra l'orologio anche se non è al 100% risultante appetibile ai propri gusti l'ho detto prossimo ciao Davide sono Riccardo ho 15 anni e vengo nella provincia di Latina 15 bravo oggi ti faccio vedere la mia piccola collezione composta da solo due orologi che ho intenzione di ampliare in futuro quindi magari ti manderò qualche video aggiornamento bravo intanto questo è il primo orologio che ti faccio vedere tu sei veramente bello davvero un 6x5 questo orologio mi fu regalato l'anno scorso per il compleanno bravo perché mi stavo iniziando ad appassionare in quel periodo agli orologi e volevo a tutti i costi un orologio automatico bravo quindi sono andato appunto sull'entrilever per eccellenza e ho preso questo 6x5 bravo ho fatto bene è un bello orologio mi piace anche a me successivamente abbiamo un orologio vintage che dovrebbe essere appartenuto al mio bisnonno addirittura ed è questo Omega Devil questo orologio è del 1954 ed è una cassa completamente in oro vero molto probabilmente è più in là quando avrò quando inizierò a lavorare comunque l'anno prossimo a 16 anni durante l'estate bravo farò una revisione a questo orologio perché è fermo è stato fermo da da quando il mio bisnonno è morto ovvero dal 2009 quindi sono 14 anni che questo orologio non non veniva attivato adesso è attivo perché ci ho fatto visto che mi è stato dato recentemente è stata fatta ci ho fatto la carica di prova per vedere che funzionasse tutto bello non credo il cinturino sia il suo ma no perché da quello che ho trovato in giro di solito aveva un cinturino in pelle questa è una sorta di nato per long e non credo appunto sia il suo un'altra cosa che non so se credo di si fosse nel di base dell'orologio è che i bastoncini nelle stecche tra un'anza e l'altra sono fissate all'anza si sta le anze non sono rimovibili poi non so se effettivamente era una cosa dell'orologio è stata fatta successivamente per ora questo è quanto ciao 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 mi sembra che la corona non sia originale di quello megalic ci sta poco male mi sembra un pochino differente forse addirittura placata le anze fisse ci stanno non lo so quel modello lì se ce l'aveva o no ma non non è così sorprendente vedere le anze fisse in un orologio d'epoca a questo punto oserei quasi dire gli stiamo parlando degli anni 50 primi anni 50 se non prima fallo revisionare quando c'avrei soldini non è nemmeno necessario entro uno o due anni anche più in là l'importante è che lo conservi come come ci meglio come l'ascito generazionale e devi metterci un cinturino lì ci hanno messo un perlone si chiama perlone quello lì con quel tessuto che passa a passo singolo tra le anze come fosse un nato a passo singolo evidentemente è recentissimo quel cinturino lì devi trovare dei cinturini in pelle ci sono anche economici che si possono mettere sull'ansa fissa e poi si bloccano ma quelli lì sono veramente delle mezze ciofeche oppure fartene fare uno su misura cucito direttamente sull'ansa quello sarebbe veramente il top poi invece secolo 5 iniziale tanti complimenti perché è veramente un orologio che piacerebbe anche a me cioè l'ho anche recensito se non avessi 30 orologi costosi magari avrei tempo anche di indossare un orologio così poi lo so che se lo prendo lo tengo lì e poi magari non lo utilizzano però è bello mi piace al polso fa anche figura come fosse un orologio di livello superiore poi c'hai 15 anni mamma mia ce n'hai di tempo per divertirti per imparare per studiare intanto studia intanto informati studia che poi le cose vengono da sé hai 16 anni e vai a lavorare bravo bravo che mi piace così che vai a lavorare invece di stare con le mani in mano bravo prossimo video ciao Davide ciao ciao a tutti gli amici iscritti al canale un saluto all'amico Giacomo e all'amico Piero bravo ti mando questo video per farti vedere i miei nuovi acquisti che ho fatto nel corso appunto di quest'anno o meglio del 2023 ok e non ti racconterò le caratteristiche tecniche e tutto quanto ma bensì cosa mi ha portato ad acquistarli e la storia tra virgolette che mi ha portato appunto a comprare questi orologi bravo partiamo subito con il primo che è questo Casio oh ma G-Shock senza loda e senza infamia volevo un orologio da battaglia come in sol dire che poi appunto chissà quali battaglie andiamo a fare vabbè è un orologio diciamo da tutti i giorni robusto e resistente ecco mettiamola così poi mi mancava un G-Shock in collezione volevo un G-Shock in collezione e ho scelto questo bravo la particolarità se è così si può chiamare particolarità è che non importa che impazzisci a settare i comandi tramite i pulsanti ma tu lo colleghi tramite l'app casa sul telefono e comandi tutto da lì che devo dire è molto comodo va benissimo per chi insomma vuole iniziare o gli serve un orologio robusto senza stare appunto senza avere troppi pensieri passiamo al prossimo orologio e il prossimo orologio è un Seiko SKX bella saio un orologio che conosci benissimo anche tu perché praticamente mi hai fatto venire voglia tu ecco mettiamola così avevo visto che tu avevo visto il video nella quale tu l'avevi acquistato e ha sempre avuto un grande fascino la SKX partiamo da questo presupposto e ho iniziato a cercare fino a quando non ho trovato questo commerciante della provincia di Lecce e l'ho preso a un prezzo secondo me giusto ecco per quello che che l'orologio offre tenendo anche in considerazione che è fuori produzione quindi yes fatto bene è chiaro che più magari si va avanti e più i prezzi possano insomma possono salire non credo più di tanto però vabbè e niente questo è tutto insomma bravo il fondello lo conosciamo tutti ma inutile che vi sto a far vedere l'orologio questo qui c'è una storia un po' bizzarra ecco un po' simpatica ero a Milano con la mia ragazza ah un consiglio ragazzi non comprate mai gli orologi quando siete in compagnia delle vostre moglie o fidanzate perché se no poi ci andate a litigare fidatevi eravamo a Milano con una coppia di nostri amici e a un certo punto ci stacchiamo perché questa nostra coppia c'ha un bimbo piccolo e non mi ricordo per quale motivo insomma ci eravamo staccati ma che me frega vai avanti al che gli dissi alla mia ragazza amore andiamo a fare un giro alle vetrine a Milano almeno passiamo un po' il tempo e ci fermamo davanti a questo rivenditore autorizzato Tudor in piazza Duomo e gli dissi amore mio tranquilla entriamo ma solo per dare un'occhiata il dipendente ci ha fatto accomodare me l'ha fatto polsare polsare che erano indeciso tra prendere lui il Tagoyer Carrera con quadrante grigio antracite e il Lojin Spirit da 37 mm e alla fine ho scelto di prendere lui anche perché ho l'Hamilton Cacifield che è molto simile allo Spirit il Tagoyer Carrera tra appunto tra il Tagoyer Carrera e questo ho preferito il Tudor Royal lei insomma ritornando a noi si allontano un attimo dal negozio per andare a recuperare i nostri amici e io dovevate vedere la sua faccia quando sono uscito dal negozio con l'orogio al polso e non è stato molto piacevole anche perché sono partite tra virgolette una mini discussione e mi è toccato pure offrire la cena ma quella l'avrei offerta a prescindere e adesso passiamo a ma non capisco cioè la tua ragazza se siete fidanzati i soldi sono tuoi che minchia vuole cioè scusami gli hai tolto dei soldi in tasca a lei non credo non ho capito vabbè poi il fatto di polsare l'orologio quando ci arrivano le persone che in questo modo così snob chic alternativo no polsato l'orologio ma vaffan domo punto all'ultimo acquisto vi ricordate quello che ho detto poco fa di non comprare mai gli orologi quando siete in compagnia delle vostre mogli o fidanzate e io invece che ho fatto siccome vi voglio proprio male l'ho rifatto praticamente a gennaio siamo stati a Roma un weekend perché lei è nata sotto le feste di Natale quindi oltre a fare il regalo di Natale gli devo fare anche il regalo di compleanno non sapevo che cosa farli a Natale ho detto vabbè dai ti porto a fare un weekend romantico a Roma lei già si era in sospettiva perché mi vedeva troppo entusiasta perché? perché ho visto un annuncio che di questo orologio in vendita tramite un reseller a un discreto prezzo questo l'ho preso usato è un secondo polso ma è semi nuovo e quindi dovevo cercare di far incastrare entrambe entrambe le cose e l'ultimo giorno prima di andare in stazione a riprendere il frecciarossa gli ho detto amore mio dobbiamo andare in un posto e già lì lei vedi che cambiò espressione e poi vabbè è andato tutto bene però ragazzi ve lo ripeto non fate come me se dovete acquistare qualche orologio fate non fatelo quando ci sono mogli o fidanzate va bene comunque detto questo vi saluto meno male è stato un piacere anche mio le metto qui tutti in fila prima di salutarvi dai diamo tutti i toppini dai e niente un saluto a tutti quanti grazie Davide per i contenuti che pubblichi sul tuo canale e niente ciao ciao love 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 non sei nemmeno logoroico diciamo la verità cioè raccontato quando uno racconta un aneddoto o qualcosa dovrebbe essere anche un attimino sintetico per non far perdere invece te arrivi a un certo punto poi a parte la diramazione della coppia che va perché no perché il bambino perché no perché è un attimino di concentrazione sul punto sul focus centrale va bene comunque non ho capito perché non bisogna acquistare gli orologi quando sei in compagnia della compagna o del compagno perché alla fine non mi sembra che sia successo niente di che comunque contento te contenti tutti bravo ciao Davide piacere di conoscerti piacere mio buon anno complimenti per il tuo canale lo seguo dai tuoi primi video e grazie del contributo che dai prego alla comunità di noi appassionati perché veramente per noi è molto importante grazie anche per la disponibilità di tempo che dai a noi iscritti per condividere queste nostre piccole collezioni io vorrei iniziare con la mia piccola collezione presentandoti il mio primo orologio automatico regalato dal mio papà qualche anno fa l'utilizzava lui è un Emitone Kaki Field calibro H10 è un 38 mm non amo particolarmente questo diametro in quanto preferisco orologi un pochino più grandi è un bellissimo muletto da parte mia secondo me secondo me secondo la mia opinione perché veramente ahimè mia colpa non ho mai fatto nessuna revisione ma devo dire che anche non ha mai perso un minuto molto preciso e altra cosa quando è proprio totalmente scarico basta veramente muovere un po' la cassa che ripartono i secondi quindi cosa vuol dire questo in orologi molto più blasonati non accade mai e come ti ripeto è un orologio che ha già qualche anno qualche anni fa era caduto se era rotta la corona è stata riparata infatti come noterai non è la sua non è quella originale però è un orologio che amo che mi piace ogni tanto portare girarlo sul polso ti dico nonostante non adori questi diametri però sono veramente molto contento della casa Hamilton perché fa veramente orologi di una grandissima qualità ora mi viene in mente qua stiamo parlando di un orologio contemporaneo di un orologio dei giorni nostri al quale si è rotta la corona è caduto non mi ricordo non ho capito e gli è stata sostituita con una generica ora immaginiamoci se questa cosa succede ora oggi nel 2023 24 buon anno mi ha detto immaginiamoci negli anni 50 40 60 come poteva essere all'ordine delle cose la sostituzione di una corona con una presa del cassetto lo fanno anche ora cosa che io non avrei fatto però nonostante un Hamilton possa considerarsi un orologio economico entry level come volete voi io avrei voluto la sua corona originale proprio perché siamo in un in un periodo in un momento storico nel quale siamo consapevoli che quegli errori che facevano una volta sarebbero da evitare oppure che ci danno fastidio noi appassionati ci dà fastidio vedere una corona differente e io mi permetto di perpetuare questa brutta abitudine anche al giorno d'oggi no avrei messo la sua addirittura avrei mandato in assistenza ufficiale figurati un po' come la penso io voglio continuare a presentarti il mio oris carbre sheer bello totalmente in bronzo si ho orologi 2000 2000 pezzi in tutto il mondo ci piace questo è praticamente un oris 65 un diver 65 che anche tu so che apprezzi e che ne hai uno simile si il bronzo materiale che ho scoperto giusto con questo orologio qua ed è un materiale che veramente adoro perché prende delle tonalità tutte diverse rispetto alla sudorazione del polso alla latitudine di cui si vive ed è veramente un materiale unico secondo me e adoro il dial così blu è un orologio questo che è stato dedicato appunto a carbre sheer un otto pallombaro della marina americana che da cui hanno poi tratto ispirazione nel film man of honor mi è stato regalato la laurea ed è un orologio a cui tengo particolarmente e utilizzo quasi quotidianamente il fondello non è un fondello normale qui abbiamo proprio ricavato l'incisione del casco da pallombaro di carbre sheer il numero il numero del pezzo e il motto di questo quando si parla dei fondelli decorati che sono recentemente ne abbiamo parlato che sono più attraenti più interessanti che un fondello trasparente con il caibro a vista eccolo qua in questo caso da quel valore aggiunto è inutile dirlo se fosse stato trasparente con quel bel rotore rosso che ci mette oris per il selite sv200 si li compro anch'io io ho il big crown che ha il fondello trasparente non è che lo butto via non lo indosso più perché c'è il fondello trasparente però un bel fondellino così c'è il suo questo pallombaro cosa curiosa nota curiosa questo è stato l'esemplare che era all'interno della bacheca quando l'hanno presentato al base award 2016 e da base award è arrivato proprio all'orologeria Pasquale e Dominici da cui ti servi dal tuo amico che conosco e poi è arrivato nelle mie mani è già stato revisionato ecco monta un sellita un sv200 come è stato revisionato come precisione non è un COSC però fa il suo il suo lavoro da quando ce l'ho al polso cioè dal 2016 nonostante la revisione nonostante la regolazione perde sempre qualche minuto però ce lo facciamo andare bene i miei appassionati guardiamo altro 2016 2016 mamma mia non pensavo fosse passato così tanto tempo quindi la revisione l'è fatta proprio sì è fatto bene passiamo al mio altro oris un altro bronzo di Carbre Sheer è uscito nel 2018 ci è avuto qualche anno per ritrovarlo per trovarlo perché al momento non potevo prenderlo non lo trovavo e ovviamente anche esso è tiratura a 2000 pezzi in tutto il mondo quindi la ricerca è stata un po' estenuante me l'ha regalato mia moglie per il compleanno qualche anno fa e anche esso come dicevo tiratura 2000 pezzi il fondello è uguale identico all'altro oris sempre di Carbre Sheer è un 43 mm mi piace tantissimo le dimensioni sempre materiale bronzo totalmente bronzo anche esso cammina un po' troppo già regolato però chi se ne frega non me ne frega proprio niente l'unica cosa ecco che avrei preferito di oris che seguisse un pochino la colorazione del dia l'uguale al precedente questo è un po' chiaretto comunque vabbè ce ne faremo una ho notato sto qua è chiaro l'altro è blu scuro per esempio il mio Diver 65 che ho io è ancora più scuro quasi sul nero sono tonalità differenti ragioni e adesso stavo cercando il calibro 401 l'ultimo di casa oris in bronzo che è uscito qualche anno fa è anch'esso sempre tiratura 2000 pezzi e vediamo se riusciamo a trovarlo sperando che sia un pochino più preciso però comunque per me è grandissimo orologio poi passiamo a un orologio che adoro il primo orologio che mi sono acquistato da solo Rolex Deep Sea il Rolex è un Rolex che mi piace perché è un diver ma non è il classico su Mariner perché su Mariner obiettivamente ce l'hanno potuti ecco il poverino è un orologio che ha dettato moda è veramente un grandissimo orologio però preferivo un qualcosa di simile ma che si distinguesse un pochino e questo Deep Sea mi piace da morire questo quadrante degradé che dal blu va verso il nero è un orologio ovviamente commemorativo dell'impresa che ha fatto James Cameron nella fossa delle Marianne e va a 3.900 metri io ci vado a mezzo metro però va bene uguale l'orologio che si è un pochino impegnativo per spessore e dimensione il diametro è un 44 mm un pochino spesso ma ti assicuro che almeno al mio polso non ho un polso piccolo né grandissimo è un 16 e per me è molto comodo quindi non sembra quasi non averlo e come dicevo è un orologio che adoro e quasi tutti i giorni lo utilizzo bravo poi sempre rimanendo in casa Rolex cos'è cos'è eccolo qui Submariner nodata questo non è ti do al top ma mi hai fatto tutto un discorso che ti sei preso il Deep Sea perché Submariner è banalotto che ce l'hanno tutti che questo che quell'altro e poi ti fai e poi c'è questo ma allora mi pigli per i fondellis come si suol dire in Americas vabbè io l'ho regalato alla mia dolce metà un paio di Natali fa e l'ho acquistato perché Submariner per me è un orologio bellissimo da vedere per me è molto piccolo questo è una referenza è un 41 mm la referenza nuova 124 060 mi sembra e mi piace vederlo sul polso di mia moglie perché è veramente un orologio che sul polso di una donna è fantastico anche abbiamo cambiato inarrivabile da altri da altri orologi e ovviamente il Rolex conosciamo tutto preferisco il nodata perché non mi è mai piaciuto l'oblò con la lente l'oblò c'erano avuto amici non mi è mai andata giù l'oblò mi dà proprio uno stile troppo retro invece il quadrante così pulito lo adoro bravo proseguo con un altro orologio per spezzare un pochino questo Panerai submersible regalatomi sempre dalla mia dolce metà questo Natale quindi è fresco fresco in oro rosa in ceramica corona in ceramica classico blocca corona del brevetto brevetto Panerai è un orologio che nonostante sia un 42 mm sembra molto più grosso e ha una portabilità fantastica perché il fondello totalmente piatto e sinceramente aderisce perfettamente al polso non è per niente pesante come no? non tanto impegnativo mi ricorda l'oro rosa mi ricorda il bronzo appena appena nato non ancora ossidato ho capito è un orologio che quasi quotidianamente utilizzo perché veramente ci sono molto affezionato e mi piace parecchio un orologio non impegnativo lo definisce non ingombrante ma c'è delle percezioni al di fuori della norma differente delle nostre ora hai giurato il top ma un Panerai d'oro è pesante mi piace l'oro mi piace l'acciaio e oro ma un Panerai d'oro è pesante pesante nel senso di visivo di indossabilità anche di concetto vabbè però un Panerai grosso così massiccio tutto ad oro mii quanto costa l'oro una marè una marè mii praticamente inciso il siluri umani in pratica gli incursori di Svezia dove diciamo un immenso onore avevo il mio caro nonno che è stato uno degli incursori del secondo corso da quando era stato fondato in quale Panerai ovviamente dotava i polsi degli incursori nei primi anni della marina e come dicevo un orologio che deve piacere l'ho provato una volta provato me ne sono innamorato dalle foto sinceramente su internet non mi diceva niente e ho visto quelli in acciaio in acciaio per me erano troppo impegnativi un po' troppo pacchiani invece questo con oro ha veramente un socché di elegante ma mi stai a bigliare per il culo cioè ma quello solo acciaio è impegnativo è pacchiano quello in oro invece è più leggero è più indossabile ripeto la portabilità è molto alta alta per finire questo è l'orologio che ho portato mia moglie e questo è Natale è un Daytona 40 mm in referenza 126-503 acciaio oro e al nero e un Daytona vabbè che dire è un Daytona adoro la storia adoro il disegno adoro tutto ma già sul mio polso non mi piace non ti piace sarò uno dei pochi al mondo che va contro però sul polso di mia moglie veramente spicca tantissimo acciaio oro poi evidentemente una tipologia di orologio che non va tantissimo perché tanti prediligono l'acciaio però vedo questo contrasto con il nero acciaio oro e nero è per me fantastico e vedo che anche mia moglie non disegna e niente adesso io ho finito ti ringrazio per la disponibilità che mi hai dato e come sempre rock rock e niente l'avevo già accennato nel video di prima che il Daytona acciaio oro quadratto nero è quello che preferirei io se dovessi essere forzato ad acquistarlo è bello è bello orologio mi piace però al momento proprio non rientra tra i miei interessi sono troppi ideologi come d'altronde hai dimostrato te perché vabbè ti sei un po' fossilizzato sui Rolexini però ci hai fatto vedere che hai speso anche dei gran soldoni in quegli Oris edizione limitata che non costano poco quindi la tua passione ti porta a spendere probabilmente sei proprio fissato con Oris perché due in bronzo un cronografo è un diver di Oris di quelli che costano tantino insomma solo un estimatore li spenderebbe due volte i soldi per una roba simile comunque questo ti fa altro che onore perché sei un appassionato vero diciamo così panerai d'oro elegante panerai d'oro è indossabile facilmente quello è un acciaio pacchiano a parte queste queste stranezze nelle tue percezioni perché più di una volta hai dimostrato di essere un po' fuori dal core ti faccio i miei complimenti per tutta la collezione per gli orologioni e per il deep sea che proprio a me non mi piace niente boh mi sembra di aver detto tutto ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua ho regolato il video con me i video con me e il microfono con me non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love